Ci siamo già visti? Nathan Bratt, il nuovo insegnante di lettere. Lei vive qui vicino? Ah, nella vecchia casa Beedle. Casa Beedle? Ho sentito di un'orribile storia sul ragazzo che viveva lì. Dicono sia infestata. Lei non ha notato niente? Ho avvertito qualcosa di strano? Dite cheese! Non è affatto divertente! No, niente di rilevante. Stanno accadendo cose veramente strane? C'è qualcosa che non va. Perché l'hai fatto, amico? Non sto scherzando! Perché le macchine fotografiche maledette non esistono! È tutto ok? L'infermiera, presto! Tutte queste cose sono collegate. Si vendica con lui. Per quello che gli hanno fatto i nostri genitori. Siamo figli di assassini, non posso pensarci. Dicci che succede. È ovvio che lo sai. Per questo ci accadono tutte queste cose. Non abbiamo scelta. Deve finire adesso. Corri! 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 È tempo che sappiano la verità. Venite con me. Oh mio Dio! Dobbiamo parlare. Perché James profuma di Jolly Rancher all'angheria? Stavo per dire lo stesso. Vai... Boare! Posso! Quante ярi video? Per il mio bisogno è fredda! Quante Kyle! Ecco bene! Pardo! Buon lavoro! E non, c'è la mamma! Tu è parlare! Come va! Quante belle pr oficiale! Qui c'è? uba! Quanteells! Grazie a tutti.